Ok dai, tra un'oretta entriamo in Italia e poi andiamo verso Brescia dove incontreranno l'altra parte delle loro famiglie che erano già in Italia. Ormai stiamo andando verso la fine di questo viaggio che sicuramente è stato, ha avuto molti aspetti dalla preoccupazione alla gioia e quindi abbiamo avuto varie fasi in questo viaggio, è stata una cosa sicuramente bella. La compagnia è stupenda, ci siamo trovati bene, abbiamo passato dei bei momenti, sono stati anche dei momenti molto toccanti perché la situazione è veramente di quelle insomma da toccare, da prendere con le pinze e così iniziamo. A mezzanotte del terzo giorno si conclude così, da dove siamo partiti questa avventura. È stato un viaggio carico di emozioni, soprattutto nel momento in cui abbiamo avuto il contatto con i nostri ospiti e anche quando li abbiamo salutati. È stato un momento carico di preoccupazione quando eravamo in attesa, è stato comunque un viaggio che non ne medicheremo facilmente tutti noi volontari che l'abbiamo fatto. Grazie a tutti voi che ci avete supportato in queste ore perché i vostri messaggi che ci giungevano sono stati sicuramente importanti e di grande supporto per quello che stiamo facendo. Grazie a tutti voi, grazie ai volontari, grazie alla Croce Verde.